se voi se me lo vedete qua perché mi ho avuto dove te qua frey? perché qua ha cominciato tutto e qua devi finire non mi sta bene quello che sta succedendo e non mi sta bene quello che ha visto a Bologna ma perché te stai a Bologna? e che ce stai a far? per parlare di aver conto a Libano che riesco da dare il gioco ma che cazzo sta-tì? non si esce da questo tipo di gioca freddo e che lo stabilisci te eh? che conti più cazzo perchè ti sei venuto ai politici? guarda io da Bologna non sapevo niente lo vedi? lo vedi che è come ti dico io? questi ci usano senza manco darci le spiegazioni quando ci saranno spremuto come limoni ci butteranno dentro al secchio ma io me ne vado prima con le gambe mia voglio morire come dico io ma non metti a quel culo! che la politica non c'entra in cazzo perchè ti sei venuto il cervello per quella che la ti ha fatto sbloccare freddo? hai sfragnato tutto l'amicizia eravamo fratelli e te se ne vuoi andare era un patto per sempre sta gamba vale sta gamba è per sempre io me la sono giocata per difendere a te e ardanti hai capito? hai sentito quello che ti ho detto? hai capito? a Giuda! allora se sto Giuda dammi sti trenta denari che mi aspettano e famo la finita beh e se ti manca qualcosa chiede al secco levati e quindi ci manca che lo è che che ha